Sì, tante sul fattore di superstizione quando si è in gravidanza, non so, non bisogna cavallare la gamba, se no il bambino viene strozzato dal cordone umbilicale, cose simili, quelle sì, ne ho trovate parecchie che poi ho trovato riscontrate, insomma, quelle vere e quelle no. Oddio, forse rincrociare le gambe, non lo faccio per sicurezza, insomma, poteva esserci il rischio che il bambino, insomma, nel momento della nascita potesse avere il cordone umbilicale attorno al collo, parlano di troppa agitazione, può nervosire il bambino, quindi restare in un luogo calmo, tanta musica classica. L'ho riscontrata non come bufala, ma come veritiera, nel senso che il bambino è tranquillo, continuo ad ascoltarlo anche adesso e, insomma, per ora funziona. Ah, il Chiama Angeli, io l'ho usato tantissimo in gravidanza, perché, insomma, nella speranza che fosse vero quando uno ha la voglia. era descritta come bufala, però io per sicurezza, in realtà, ho cercato di, se avevo qualche voglia, insomma, di godermela. Anzi, era una buona motivazione per essere coccolata. Grazie a tutti.